Grazie 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 Passiamo al secondo classificato Il secondo classificato è un video che si intitola Generazione Europa Viaglio Plus La continuazione della prima e due è la sequente Esempio di nuova Europa nato da un grande lavoro dei giovani e delle scuole superiori in collaborazione con l'informa giovani di Moscagietti e di Spiripari Significative esportali delle interviste che emergono da un carattere di cittadini europei in mondo valido Prego Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.